salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video su marvel snap è appena uscita la nuova patch quella che tutti attendevano quella dove le carte sono scese di serie e quella dove ci sono state anche delle modifiche importanti oltre che quella dove hanno inserito la sfida tra amici la battaglia amichevole come potrete immaginare vedere ancora non ho fatto il mio pack opening perché sto facendo questo video tipo mezz'ora dopo che è uscita la patch ho giusto giusto scaricato la patch nuova su steam e quindi ancora devo fare tutto però domani credo che questo video uscirà dove aprirò un boato di casse perché già ne ho 9 qui più 10.000 crediti più o altri crediti salvati quella insomma apriremo un sacco di cose vediamo se riesco a trovare qualcosa di importante qualcosa che è sceso magari di serie ma che cosa è cambiato di rilevante ci sono un bel po di bug fix e di problemi risolti problemi conosciuti eccetera eccetera ma diciamo che sono la cosa che ci interessa forse di meno perché ci sono due cambiamenti molto importanti su due carte che per una volta nella vita non sono stati liccati e quindi a sorpresa hanno cambiato profondamente abbastanza profondamente leader leader la carta più odiata degli ultimi mesi forse e anche wolverine ora vediamo come in più hanno detto che molto presto probabilmente per l'inizio della prossima stagione io credo dato che manca la settimana cambieranno aggiusteranno anche surfer e zabu che evidentemente sono giusto un attimino troppo forti rispetto al meta attuale ok quindi evidentemente arriveranno dei nerf anche per quelle due carte ma questo sarà un pochino più in là secondo me non troppo in là secondo me all'inizio la prossima stagione cioè fra una settimana ora però vediamo cosa hanno fatto su leader leader che prima era un 64 poi è diventato un 63 che copiava tutto quello che facevano i vostri avversari nel loro turno più leader quindi se voi arrivate in vantaggio fondamentalmente vincevate quasi sempre tranne questioni particolari con dracula oppure per combattere che leader non poteva copiare oppure per disposizione di carte però linea di massima era estremamente forte adesso li bere un 67 quindi l'hanno baffato di power però il suo potere è rimasto diciamo monco ovvero adesso copia nel tuo lato tutte le carte avversarie giocate nel turno quindi come prima ma ma solo quelle sul campo a destra da dove giochi la carta cioè leader quindi non copia a prescindere ovunque i vostri avversari giochino quello che giocano ma solo se c'è una giocata a destra di dove giocate leader quindi è molto più scarsa come effetto rispetto a prima è molto più facile fare un play around e in realtà è molto più difficile capire se è il caso di giocarla oppure no quindi vedremo immediatamente se la gente comincerà a non giocare più leader oppure se comunque anche con questo cambiamento importante ci sarà posto per giocarlo magari in alcuni spot è difficile fare una previsione io l'unica previsione che posso fare che immagino che verrà giocata molto meno adesso perché non si saprà come giocarla e quindi di fatto è un nerf vedranno ovviamente come vanno le cose se poi sarà troppo grosso che poi non gioca più nessuno forse magari la cambieranno ancora comunque è il problema del di questo effetto la scoperta che è molto particolare ed è difficile da bilanciare invece un'altra carta che è stata abbaffata e anche di netto e wolverine wolverine è una carta che praticamente quasi nessuno giocava si giocava nel destroy deck di pool 2 una volta cioè all'inizio però è praticamente non giocata giusto qualche deck con galactus forse la gioca in modo che tanto distrugge tutto e poi wolverine salta nell'ultima location valida il motivo per cui appunto l'hanno buffata è perché hanno scritto che nessuno la giocava e wolverine è ovviamente un personaggio molto iconico ed era un peccato che non venisse giocata da nessuno quasi quindi adesso cosa fa esattamente quello che faceva prima solo che prende un più 2 ogni volta che lo fa quindi quando questa carta viene scartato distrutta rigenerala in un campo casuale con più 2 di forza prima era uguale però senza il più 2 di forza vediamo se qualcuno comincerà a usarla magari in un destroy deck in un baero queste cose qua certo sicuramente più forte bisogna vedere se si riesce a costruire qualcosa intorno a wolverine magari uccidendolo una volta due volte anche se non è facilissimo perché voglio dire modi per triggerarlo più di una volta c'è deadlock carnage e venom quindi potrebbe comunque prendere un più 2 un più 2 un più 2 un più 6 alla fine se ogni volta viene uccisa è fatta saltare un'altra parte vedremo se qualcuno comincerà a usarla certamente è nettamente più forte rispetto a come era prima oltre questo ovviamente come modifiche c'è stato l'inserimento delle battaglie amichevoli ancora io non l'ho provata ve l'ho detto pochissimo tempo da quando è uscita la patch funziona così molto semplice così come hanno detto nuova schermata battaglia amichevole o crei una stanza una partita in realtà oppure ti unisci a una partita crei partita semplicemente si sceglie un deck perché poi sarà solo quello da poter giocare si crea un codice che in realtà è un numero e poi lo si dà a chi si vuole l'altra persona farà unisci inserirà il codice e partirà la partita se avranno 10 punti vita a testa e ogni snappata ogni cubo in realtà varrà come un punto vita in realtà poi ci sono qui le regole scritte ogni giocatore inizia la partita con 10 di vita sconfigge il tuo avversario infliggendo 10 di danno nel corso di una serie di round vincere un round significa infliggere l'avversario un danno pari al numero di cubi però la posta in palio si alza dal quinto round in poi per non far durare troppo le partite i cubi saranno già sotto l'effetto dello snap basta che un solo giocatore faccia snap per raggiungere la quantità totale di 8 cubi quindi praticamente dopo il quinto la partita tipo finisce quasi subito e ci sta perché sennò durerebbe troppo e questa modalità non permette di ottenere potenziatori o ricompense di classificata ok quindi è proprio amichevole non c'è nessun premio e nessuna modifica del ranking o dell'mr e questo è quanto questo è quello che è uscito nella patch nei prossimi giorni sicuramente vi farò appunto un video di questo spacchettamento epico ci sono un sacco di roba che dovevo aprire e vediamo se riesco anche a registrare avere una partita amichevole con qualcuno e così vi faccio vedere anche come funziona effettivamente una partita amichevole ma poi credo anche in settimana arriverà un video sulla nuova tier list almeno secondo la mia opinione delle carte migliori da prendere nello shop perché adesso ovviamente con delle modifiche e tutto quanto cambia per esempio leader banalmente se prima era sicuramente una delle prime cinque carte che vi avrei consigliato di prendere con i gettoni adesso non lo è più adesso comunque sono effetto l'ho scoperta sicuramente non è più imprescindibile leader mentre prima lo era quindi uscirà anche questo video spero appunto dentro il weekend questo weekend con le migliori cinque carte da prendere subito con i token perché se siete all'inizio del gioco arrivate a 500 punti di collezione avrete 3000 token del collezionista quindi potreste prendere tre carte di serie 3 dal token shop ovviamente quando vi escono a giro detto questo ragazzi chiudo qua il video fatemi sapere tutto quello che volete sotto nei commenti e ne discutiamo noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sempre sul gaming a 360 gradi ma ovviamente anche su marvel snap in questa playlist aggiungo ultima cosa su instagram lo sto dedicando più o meno solamente a marvel snap quindi se volete qualche extra contenuto anche il mio instagram potreste seguire ok noi ci becchiamo alla prossima un saluto ancora ciao ciao statemi bene